La serie di tragici attacchi che ha colpito l'Europa a partire dalla seconda metà di luglio non cancella la voglia di vivere la normalità degli italiani, nemmeno per quanto riguarda le vacanze. Ad agosto secondo il sondaggio estivo, Confessor Centi, Swag, saranno ben 21 milioni coloro che si concederanno un periodo di ferie, di cui 6 su 10 sotto l'ombrellone, un numero in linea con quello registrato lo scorso anno, che dimostra come l'effetto terrore sui consumi turistici sia per ora limitato. Solo il 4% ha disdetto i propri viaggi, per effetto della tensione e della paura legate agli attacchi terroristici. Un ulteriore 19% poi ha solo cambiato destinazione o mezzo di trasporto. La meta per il 76% dei vacanzieri sarà l'Italia, con la Puglia che si conferma la regina dell'estate. Tra le mete europee vincono Spagna e Grecia, ma nonostante la Brexit resiste anche il Regno Unito. L'albergo sarà la struttura preferita, vi soggiornerà il 36% e la spesa media sarà di 858 euro a persona.